cari amici di youtube e un caro saluto da mario giuliacci due grandi novità per i prossimi 10 15 giorni la prima già ve l'ho ribadita oggi ossia arriva un po più freddo di quanto non sia adesso perché le minime non solo massima anche le minime scenderanno fino a 8 10 gradi su gran parte del centro nord o almeno nelle zone interne del centro nord ma non lungo le coste caleranno anche al sud ma non fino a 10 12 gradi l'altra novità di rilievo già avevamo parlato è l'arrivo di un'intensa perturbazione tra il 25 il 27 di settembre perturbazione che porterà rovesce temporale anche abbondanti soprattutto sulle regioni tirreniche in particolare toscana umbria lazio campania e anche sul levante ligure sulla lombardia sull'este del piemonte e sulle zone pedemontane alpine quindi diciamo il 50 per cento dell'italia finalmente vedrà un po di siccità ridimensionale cominciò abone la minuzione cominciò